Cominciamo questo terzo incontro di Riccardo a Ritaino, all'interno del ciclo Roma, alle cuore del rinascimento. Abbiamo una famiglia processata, la Santa Rodolfo, un grande amore per noi, la cui salata di un po' lungo, di primavera 22 minuti, più o meno con immagini, la Santa Rodolfo è curatrice dei musei particolari della sezione Arazzi e Tessuti, e quindi tutta la postione dei arazzi, del loro studio, del loro restauro, della loro presentazione al pubblico, ed è anche responsabile della sezione del Settecento, cioè nel XVII secolo, e capite che grande cosa la cosa dovrebbero avere qui con noi. Ha curato tantissime mostre con i cataloghi di pubblicazioni pubbliche, per esempio la mostra che molti di voi avranno visto di alcuni anni fa, ha bello spazio sulla storia degli elezioni condifici presso il museo che era a Criteria di San Giovanni di Laterano. Poi ha curato un volume di Michelangelo di Caravaggio, che fa una cosa che non ci fosse, intendo anche alcuni lavori che erano usati a parte del nostro pubblico. E poi, tra le ultime sue pubblicazioni, ha curato con la Crocesa Caterina, un'altra parte della Stataia di Roma, della Stataia di Roma, della storia di Roma moderna, vestire i palazzi, stoffe, tessuti e panate di diameglie nell'arte della Roma. E iniziamo qui, tutti i simili, per stare con lei, e domandolo, per cominciare, l'Antico è sempre esistente. Ma, come abbiamo ragionato, possiamo avere qualche riscoperta dell'Antico, una passione, un studio, un amore. Raffaello è un testimone di questa passione che è per me. Ci aiuta a comprendere, dal suo punto di vista, questo grande amore di Raffaello? Per me, questo è un problema di raffaello. Allora, questo è una questione della prima slide. Questa prima slide, con la citazione di raffaello, inizia a capire l'arte di Raffaello, e sulla quarta domanda, da allora il mondo, conoscere il suo spazio, dice che i raffaello di Raffaello, non condiando le famiglie di quelli e i studenti, in quelli conere, presenta tutti i maletti, la propria raccolta di Raffaello, Qua c'è praticamente la sintesi dell'arte di Raffaello, cioè tutto quello che è in strada di Raffaello, e diciamo che è un'artista che riesce a semplitizzare con le ragazze, le suggestioni, i suggerimenti, che mi raccontano un po' comunque, per loro dalla sua finita curiosità, e tutto il basso colore, tutto la sferisci in una sintesi completamente come l'originale, che molto spesso c'è la testa di Raffaello, e quindi anche il rapporto con il montantino, specialmente il primo frio, l'ottorata di Raffaello, è un'artista, e vedo che la scelta di Raffaello, la Ciamino, che giugna, un continuo, invece facciata di avere delle vestigie particolarmente buspe, cioè una funzione delle belle storie, ma quella raccoglietta, del tuo gruppo e proprio a Raffaello, sul mio periodo, che ha avuto un attuale antico fondamentalmente, tramite dei dei minuti, dei lati, e tramite gli artisti del Palaiso, quindi tranne per un cucino, tranne per un'area che non ci sono, tranne per un vigna, tranne per un fatto tranquillo, tranne per un'azione di trato. E qui, signor e io, l'abbiamo costruzionato in questo libro di Venezia, il nostro libro di Alfaello, che è un libro che non si sa di te. Si sa di te. Il libro che si è realizzato da un libro che si è realizzato che si è realizzato da un artista romano, ma in popoli i disegni di Raffaele, e si è realizzato il problema, vediamo che Raffaele ha una produzione infinita di disegni come materiali di bottega ad attenzione della propria, però purtroppo sono quasi tutti i stuparsi con le piacere, con la scienza di Roma o qual è altro, quindi molti dei disegni di Raffaele non si sono più profondi a coppie, come in questo caso, questo regolamento della propria, che ci fa capire come Raffaele non viace la produzione della piccola affronta, proprio con la figlia dell'archeologo. Cioè, che lì ad rappresentare la figura di questo libro di zegno, dei divini disegnani, che sono un zegno che era del palazzo, come dice, di Michelozzo, a Bialata, di Firenze, come affronta questo? Si trova di fronte e guarda l'opera. Il video di un mio accordo della volta non si pensava che fosse un personaggio di qualità, e invece Raffaele non capisce che cosa propresenta quest'opera. In realtà, come è un suonatore del libro di rotto, e anche questa bella, in un senso del libro, la bella qui sul libro di rotto, era la bella che era benissima, così quando il personaggio di questo libro di rotto, si sentiva pulire le caratteristiche, di rotto, quindi Raffaele non soltanto prende la profuscia nazica, che son dei studi e la profuscia nazica, che sono, e si punte la profuscia nazica, in un momento di rotto, e non mi ha fatto più contato, non riasciato di penetrare, ad esempio, il nostro cultivo, perché capisci anche nel soggetto. Quindi, l'un stesso punto di scuola, in un momento di rotto, che si insegna un'opera, che non è molto affilata in sé, che disegna il primo esempio di Venegre, di Venezia, ed è appunto dell'interesse a contatto sulla parte di parte del corpo, quindi del risultato del cuore dei tecchi, quindi questi esempi che invece troppo amano di fare il fio, rappresenta invece la parte del genocchio, sono tutti questi esempi che poi, i rapporti da un'ambiente su questo corpo, che verranno realizzati, e ci sono un'ambiente di mangiare della cultura. E ancora, in realtà, c'è un'ambiente che si conosce poi, l'equazione che è realizzata nel cento cento del quinto, con un'ambiente di un'ambiente di un'ambiente di un'ambiente di un'ambiente di un'ambiente, con un'ambiente di un'ambiente di un'ambiente di una profusione benedetta del secondo Cult од têm σt. ed è questa la solita lo disegna. Lo disegna il debito solo a parte di vita, cioè in realtà le relazioni che si siano puntate esclusivamente sulla parte più ampia dell'ordine dell'ordine e la ricorderà insieme a qualche bellissimo quadro delle tendenze sociali dove ricoprirà così pure di carmine, di colore, di forme, di luce. Quindi riguardo nell'antico, sarà potesimo, sarà più assicurato che questa situazione è sicuramente molto inerida. Ma se è vero che il grande rapporto dell'ordine 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 dell'ordine, per esempio, in unizio di strada, in più c'è la morte, perché la facilità di pesce, che non avevano l'ordine dell'ordine 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 dell'ordine. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. 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 grazie. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. tutti. a 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 tutti. se. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.